Zelensky torna a Washington dove in serata varcherà nuovamente la porta dello studio ovale invitato direttamente dal presidente Biden, sottolinea il suo portavoce. Il mondo intorno al presidente ucraino dall'ultima visita alla Casa Bianca è cambiato, la guerra a Gaza, i rapporti con la Cina, le trame in continua evoluzione con il mondo arabo-sunnita e soprattutto le cresciute pressioni del fronte repubblicano che in vista delle elezioni del prossimo novembre punta a sfidare il presidente democratico proprio sul campo più instabile, quello delle tante crisi internazionali irrisolte. Sia in Senato che alla Camera il Partito Conservatore ha bloccato il varo di un nuovo maxi-finanziamento pari a 60 miliardi di dollari diretto a Kiev. Nonostante questo Biden dovrebbe annunciare entro fine mese un nuovo pacchetto di aiuti, tutto ancora da quantificare. Zelensky porta a Washington un messaggio carico di aspettative e di timori, la Russia deve perdere, siamo l'ultima frontiera ad est, dice. Prima di raggiungere lo studio ovale, il presidente ucraino ha incontrato i vertici della difesa statunitense e dell'industria militare. Zelensky sa che il tempo a sua disposizione diminuisce e il termine potrebbe essere proprio la scadenza elettorale più attesa, quella oltreoceano. Dal suo paese ogni giorno giungono immagini di nuove macerie. Questo è lo blast della capitale, colpito da otto missili russi. La contraerea ne ha fermati nove, gli altri hanno raggiunto case e palazzi. Altri razzi hanno puntato verso Zaporizh e Nipropetrovsk, mentre il lungo fronte da Sumiakerson non si è spostato di un... Medio Oriente, la stagione più fredda alle porte, una controoffensiva ormai compromessa, ecco il rinnovato attivismo internazionale di Zelensky in una fase della guerra definita, cruciale dagli Stati Uniti. Ieri il presidente ucraino ha partecipato all'insediamento del nuovo presidente argentino Javier Milei. Durante la cerimonia anche il breve colloquio con il premier ungherese Orban, che si oppone all'ingresso dell'Ucraina nell'UE. Domani invece Zelensky sarà alla Casa Bianca per incontrare Joe Biden, un faccia a faccia determinante dopo che i senatori repubblicani hanno bloccato un disegno di legge che prevedeva altri 60 miliardi di dollari di aiuti a Kiev. Fondamentale dunque, anche l'incontro con lo speaker della Camera, il repubblicano Mike Johnson, promette sostegno incrollabile a Kiev l'Unione Europea. Una vittoria russa rappresenterebbe una minaccia per i suoi vicini europei, l'appello della presidente della commissione von der Leyen. Dal forum di Doha, duro il ministro degli esteri russo Lavrov. Dopo 500 anni sta finendo il dominio dell'Occidente, sta emergendo un mondo multipolare e ancora hanno cercato di schiacciare la Russia, ma non accadrà mai. Le sanzioni non hanno affossato del tutto l'economia russa, certo, ma le grandi imprese, secondo quanto riportato dal quotidiano russo Izvestia, non se la passerebbero bene. Gazprom, Lukoil, Rao, i ricavi delle società nei primi sei mesi del 2023 si sarebbero quasi dimezzati. Sul campo, nella notte ancora missili su Kiev, colpito in particolare un distretto a sud della capitale, due morti e almeno quattro feriti. Pesanti attacchi ormai da giovedì per colpire e indebolire le infrastrutture energetiche del paese. Nel Donbass le forze russe puntano Avdivka nel Donetsk e Kupiansk nella regione di Kharkiv, che Putin vorrebbe conquistare prima delle elezioni di marzo. Ogni ritardo nel sostegno a Kiev fa gioco di Putin, che invece deve perdere, va fermato. I ritardi a Capitol Hill sono quello che vuole. Il messaggio di Volody Mirzeleski, che parla davanti alla platea della National Defense University di Washington, è chiaro e diretto. L'Ucraina ha bisogno, ora più che mai, del sostegno statunitense, da sempre il suo principale alleato. Tra poche ore ne parlerà anche con Joe Biden, che lo ha invitato alla Casa Bianca, per spiegargli le ragioni per le quali i circa 60 miliardi di aiuti in forniture militari ancora non siano arrivati. Il via libera è fermo al Congresso, dove Biden sta lavorando per trovare una via d'uscita allo stallo con i repubblicani di Donald Trump in corsa, come lui, per le presidenziali. Ma è difficile capire se le parole del portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale Americana, John Kirby, che è un nuovo pacchetto di aiuti a Kiev, arriverà entro la fine del mese, avranno davvero rassicurato Zelensky. Certamente le nuove forniture devono arrivare quanto prima ai soldati ucraini, che da qualche giorno si trovano a contrastare la nuova pesante campagna d'inverno lanciata da Putin, che se vuole ottenere il suo quinto mandato deve convincere entro marzo l'opinione pubblica russa che la scelta di invadere l'Ucraina sia stata quella giusta. Ma c'è un'altra incognita sulla strada di Zelensky ed è l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, al quale si oppone l'Ungheria di Viktor Orban. Il ministro ucraino Kuleba ne ha discusso in un faccia a faccia con il suo collega ungherese Peter Sigarto, al quale ha detto abbiamo un futuro comune in Europa, dobbiamo arrivarci il prima possibile insieme. Se l'Unione Europea non apre l'adesione sarà un errore devastante per l'Ucraina e per l'Europa, perché lancerebbe il messaggio che l'Unione non è in grado di prendere decisioni storiche. Non usa giri di parole il ministro degli esteri di Kiev, rivolgendosi ai suoi colleghi riuniti a Bruxelles. Lancia ancora una volta un appello per chi sia facilitato l'ingresso tra gli alleati del vecchio continente. Una prima risposta a Kuleba arriva dall'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione. Questo è il momento di sostenere di più Kiev, non meno di Chiara Borreia, prima di sedersi al Consiglio dei ministri degli esteri. E' importante, sottolinea, che il sostegno militare all'Ucraina continua a livello europeo e non solo bilateralmente. Sostegno ribadito anche dalla Presidente della Commissione dell'Unione, che avverte come una vittoria russa in Ucraina comporterebbe minacce per i suoi vicini europei. Gli aiuti finanziari all'Ucraina e l'apertura dei negoziati per l'ingresso di Kiev nell'Unione, ricorda Ursula von der Leyen, saranno due temi cruciali del prossimo Consiglio europeo di giovedì e venerdì. Ma c'è da superare il veto dell'Ungheria, ribadito anche negli ultimi giorni da Orban, che a Buenos Aires ha avuto un colloquio con Zelensky. Budapest si oppone non solo all'ingresso di Kiev nell'Unione, ma anche ad un ulteriore sostegno finanziario all'Ucraina, che vive giorni delicati dopo aver provato a cacciare i soldati di Mosca dal suo territorio, si trova ora a subire nuovi pesanti attacchi, con il rischio che dagli Stati Uniti, primo paese finanziatore, non arrivino di oltre 60 miliardi di aiuti promessi. Ne parleranno domani a Washington, a Zelensky e Joe Biden, e il presidente americano lo ha invitato alla Casa Bianca per spiegargli le ragioni per le quali ancora non è arrivato il via libera del Congresso. La sua amministrazione deve prima vincere il braccio di ferro con i repubblicani di Donald Trump, in corsa come lui per le presidenziali. Intanto Vladimir Putin, per ottenere il suo quinto mandato al Cremlino, ha disposto di fare votare alle elezioni di marzo anche le quattro regioni ucraine occupate e ha ordinato ai suoi generali un'accelerazione della campagna d'inverno perché ha bisogno di una vittoria da annunciare ai russi. Dissidente russo, nemico numero uno di Putin, Navalny, condannato a 19 anni di carcere, un giallo. I suoi avvocati hanno saputo dalle guardie che non si trova più nell'istituto nel quale era stato rinchiuso. L'ipotesi è che sia stato trasferito in un penitenziario di massima sicurezza. La scorsa settimana Navalny era svenuto in cella per la fame. sarebbe dovuto comparire ieri.